matematico e medico gerolamo cardano 1501 1578 matematico e medico una delle menti più aperte della sua epoca fu il primo a intuire la possibilità di educare i ciechi e i sordomuti con tecniche appropriate vide l'universo come una grande anima in cui tutto comunica col tutto dai minerali alle piante all'uomo numerosi fenomeni paranormali di cui cardano fu testimone colpi di martello che gli annunciavano la morte di un amico odore di ceri appena spenti che avvertì nel momento in cui un suo vicino fu colpito da un fulmine il rumore ritmico di una goccia che cadeva poco prima della morte improvvisa della madre cardano fu l'inventore del giunto di sospensione che porta il suo nome commento l'evoluto anticipa i tempi non a caso alcuni evoluti sono i maestri immateriali che si manifestano attraverso grandi medianità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti